Buonasera, benvenuti a una nuova puntata dell'analisi. Oggi toccheremo temi legati al turismo e all'economia e per farlo abbiamo con noi il professor Carlo Marcetti, docente universitario ed economista. Buonasera, benvenuti. Buonasera a voi. Senta, professor Marcetti, siamo riduci da una stagione turistica ricca più di ombre che di luci, con alcune problematiche molto importanti che restano aperte, in particolare quelle che riguardano i trasporti, navi, aerei, non solo. Servirebbe stabilità, però abbiamo un governo regionale che è forte, non si può definire. Quali rischi si corrono in prospettiva? La stagione è praticamente già iniziata, gli operatori sono impegnati a incontrare i potenziali clienti che ancora non abbiamo scenari di una politica turistica costruita dalla regione, i tagli anche sulle risorse del turismo sono stati consistenti, non abbiamo una finanziaria per quest'anno ancora predisposta, quindi non sappiamo quali siano le risorse e poi mi pare che ci sia nebbia profonda nelle politiche dei trasporti. Il tentativo di creare una flotta sarda si è rivelato, oltre che dispendioso, anche privo di sbocchi operativi. E' proprio questo che le volevo chiedere. Si può considerare un fallimento questa operazione flotta sarda? Beh, si può considerare un enunciato di impegno non perseguito. E quindi la flotta sarda se l'anno scorso aveva delle navi quest'anno, queste non ci sono neppure. Io mi ostino a pensare che forse un rapporto diverso costruito con gli operatori del settore, brutalmente detti armatori, qualcuno più o meno simpatico, forse avrebbe portato anche a un risultato significativo e a un utilizzo, direi efficiente, delle risorse sempre limitate ma importanti, messe a disposizione per affrontare questo problema, non per risolverlo ma per affrontarlo. Ci rimane qualche speranza sul fronte turistico, ad esempio si parla molto del piano di investimenti della Qatar Holding per la Costa Smeralda. Per quello che ha potuto sentire e vedere finora, è davvero quello che ci serve per il rilancio, questo piano di investimenti? Per il rilancio ci vorrebbe dell'altro. Io credo che dobbiamo tenere presente il fatto che vi è un operatore del mondo della finanza, intanto, perché non fa parte strettamente della categoria degli imprenditori, che è disposto a spendere, ad investire delle risorse significative in Sardegna e in modo particolare sul nostro territorio. Credo che sia molto importante il ruolo che le amministrazioni locali, quindi Olbia e Arzachena, in particolare vorranno svolgere per orientare gli imprenditori ad investire in modo particolare in certe direzioni. Sappiamo con una certa sicurezza che voglia realizzare delle strutture ricettive, almeno queste, sul resto discuteremo fra un attimo. Il problema è, per esempio, rispetto a queste, saranno delle strutture importanti, capire che cosa l'imprenditore che le vuole realizzare pensa o come pensa di poterle gestire, se cioè intende tenerle aperte tutto l'anno, se invece è sua intenzione operare soltanto nel periodo estivo, già questo sarebbe un segnale molto forte. E poi come intende, come dire, posizionarsi nello scenario dei mercati internazionali a cui attingere, a cui orientarsi, facendo politiche di marketing per far trattenere o far consolidare presenze poi sul nostro territorio. Non abbiamo risposto da questo punto di vista. Sì, c'è però un aspetto che Tom Barra, che sta rappresentando, insomma, gli interessi del Qatar in questa vicenda, invita a valutare con attenzione. Lui dice che questo investimento è un investimento a lungo termine e che a proporlo è stavolta un fondo sovrano, quindi in realtà uno Stato che non ha mire speculative. Ma infatti io guardo a questo investimento, a questa proposta di intervento con molti interessi e con positività. Ci sono aspetti sui quali mi sembra giusto discutere, lo stanno già facendo anche i sindaci. Come gli stazi trasformati in ville. Sì, direi che ci sono anche suggerimenti di investimento che, insomma, così posizionati come l'Aquapark farebbero discutere a lungo. Credo che non sia neppure il caso di soffermarci a discutere molto. Avessero pensato di realizzare da qualsiasi altra parte di quel territorio, forse non avrebbe fatto discutere tanto quanto adesso, non avrebbero portato qualcuno a dire eliminiamo direttamente la proposta. Si potrebbe forse traslare altrove, in una parte meno impattante, meno pregiata del territorio e segnare un recupero territoriale e contemporaneamente la nascita di un'attività economica che ha una capacità attrattiva. Come tutti gli investitori però vogliono tempi certi e possibilmente rapidi. Condizioni politiche del genere diventa assai difficile che possano ottenere questo. In qualsiasi condizione politica. Noi abbiamo, secondo me, in Italia, poi nel mezzogiorno, in particolare, un freno fortissimo nei tempi, per così dire, amministrativi delle pratiche, che sono sempre molto lunghi e mettono sempre in campo delle incertezze. Un operatore non vorrebbe né tempi lunghi, giustamente, perché altrimenti investe altrove e vorrebbe maggiori incertezze. Non vorrebbe iniziare un cammino per poi trovarsi di fronte a problemi di natura diversa che lo portano a interrompere o mettere in discussione le sue scelte. E quindi certezze e quindi meno burocrazia e quindi anche però chiarezza da parte delle leggi che non sempre sul piano operativo trovano d'accordo gli stessi interpreti delle leggi. Senta, è sempre valida, a suo avviso, l'idea di puntare sul turismo d'élite per quella parte dei territori o bisogna cambiare un po' vedute? La Sardegna è sterminata. Ci sarebbe semplicemente intanto molto da fare per puntare soprattutto sul turismo, che è una risorsa, cioè che è un settore economico che crea sviluppo, attrae reddito da altre parti del territorio nazionale e dall'altra parte del territorio non italiano e quindi praticamente è per noi risorsa pregiata. Già sarebbe importante puntare sul turismo facendone un obiettivo su cui credere e su cui investire delle risorse in maniera coerente. Però questo è più che altro un auspicio o un impegno spesso da slogan piuttosto che da operatività concreta. Il primo dato. Il secondo aspetto è quindi la Sardegna è sufficientemente ampia per poter ospitare tipologie di turismo diverso. Questa parte del territorio è particolarmente, diciamo, anche raffinata o organizzata per raccogliere un turismo di lusso, che è un turismo che, sebbene arrivi in minore quantità, crea ricadute di reddito fortissime sul territorio. Ma noi da un po' di tempo stiamo perdendo quantità di turisti e anche qualità di turismo. Quindi sotto questo aspetto pensare che le nostre difficoltà siano soltanto legate ai trasporti o ad una storia recente, cioè dell'anno scorso, credo che sia un errore terribile e dovremmo riflettere sul fatto che stiamo perdendo, per così dire, attrattività sui mercati più ampi. Approfitto della sua presenza per parlare di un tema di cui si dibatte molto, anche perché gode di una spinta piuttosto forte dal basso, con gruppi di cittadini che si sono organizzati per rivendicare. Sto parlando della zona franca integrale. Le chiedo, è una buona idea? È l'obiettivo da perseguire per risollevare l'economia della nostra isola? Mi viene da pensare che mi è capitato quando la politica mi portava ad essere più spesso anche in qualche maniera protagonista di vicende vissute direttamente, di parlare proprio di questi aspetti con l'allora presidente della Giunta regionale, che era un sardista, Mario Meis, un padre fondatore, voglio dire, anche di questo tipo di problematiche, anche di obiettivi. Le difficoltà erano già chiare da allora, eppure avevamo un leader della Giunta regionale che fortemente spingeva in questa direzione. Ma le difficoltà erano così forti che un certo punto in questo colloquio molto simpatico che avevamo fatto di noi mi disse caro figliolo ci devi credere, è un atto di fede. Rimase un atto di fede perché sono passati tanti anni. Se dovessimo parlare di zona franca direi che può essere uno strumento utile. Però la zona franca si può fare in tanti modi diversi. Si può fare la zona franca integrale, credo che fra trent'anni ne staremo ancora parlando, spero di no, spero di essere io uno fra quelli che sbaglia. Naturalmente ne fare queste valutazioni, ma è un percorso veramente ostacoli, è un percorso lento. Noi avremmo avuto la possibilità di lavorare seriamente per i punti franchi, sono già previsti questi. A livello nazionale abbiamo avuto anche posizioni favorevoli dei governi, anche normative che ci aiutano a istituirli. L'Unione Europea non avrebbe assolutamente problemi, credo che per noi il problema sia quello di compiere fatti concreti che non abbiamo compiuto. E mentre avremmo potuto compiere dei fatti concreti per attuare i punti franchi, discutiamo di zona franca. Cioè di tutta un'altra storia che per andare a realizzarla avrebbe bisogno di cambiamenti costituzionali, di pareri nuovi favorevoli dei governi, ammessi che ci siano. Di pareri dell'Unione Europea, insomma, guardate, davvero è un pasticcio che credo che ci lascerà praticamente al palo. E poi vi è un problema forte che è quello, se attuiamo la zona franca, a seconda del tipo di esenzioni fiscali, dovremmo prevedere una quantità minore di entrate per le casse della regione. Il che forse è meglio iniziare a pensarlo prima. La controindicazione numero uno, insomma. Io credo che sia insieme all'altro, la difficoltà a renderelo per seguire. Ad Alghero abbiamo letto oggi che per le festività pasquali buona parte degli hotel della città, turistica per eccellenza in Sardegna, resteranno chiusi perché ci sono scarse prenotazioni. È un campanello d'allarme per la prossima estate? Sta suonando da un pezzo questo campanello da parte. I primi a rendersene conto sono gli operatori che per fortuna da un po' di tempo, soprattutto dalla fine dello scorso inverno, stanno cercando di darsi delle risposte con iniziative private al superamento dei problemi o all'attenuazione dei problemi di cui parlavamo prima, cioè costo trasporto molto elevato, iniziative per raggiungere mercati lontani, stanno organizzandosi i consorsi, stanno chiudendo accordi con gli armatori del settore marittimo e con le compagnie aeree. Forse qualche effetto, come dire, attenuante dell'impatto di difficoltà che avremo sarà giocato proprio da alcune aziende che stanno muovendosi direttamente. Perché lo scenario è uno scenario che ci comporta difficoltà, sostanzialmente non è cambiato nulla. La frutta Sardano c'è, i costi del trasporto fondamentalmente rimangono elevati, il numero degli spostamenti, cioè dei voli attivati dal trasporto aereo, si sono per i giunti a ridotti, perché vi sono le difficoltà delle compagnie importanti come Meridiana. Quindi questo è lo scenario di raggiungimento dei mercati. E poi vi è una crisi economica che quest'anno ancora si sente e si sentirà in modo più pesante presso gli italiani che vedranno diminuire la loro capacità di reddito e quindi la loro disponibilità a fare vacanza. Se fossimo stati più attenti avremmo visto che il mercato internazionale, quindi i turisti internazionali, tendono a venire in Sardegna, tendono ad aumentare, soprattutto quelli delle fasce più alte. Avremmo potuto investire in quella direzione e cercare di cogliere i vantaggi che da questo tipo di situazione per noi favorevole ne sarebbero derivati. Ma non trovo un gruppo di intervento capace di unire le forze per convogliare tutta l'energia in quella direzione e approfittare di questa situazione favorevole. Certo. Io la ringrazio per aver partecipato all'analisi. Abbiamo terminato il tempo. Uno scenario, insomma, che ci lascia ancora qualche perplessità su quello che sarà. Ma guardiamo con ottimismo perché diventa fondamentale. E comunque facciamoci tutti un bel in bocca a mano. Assolutamente sì. Grazie, professor Macetti. Buona serata a voi. Ci rivediamo domani con l'analisi. Grazie. 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 Grazie.